Continua a preoccupare la situazione dei furti nell'area della Val d'Agri, lo evidenzia il consigliere regionale del gruppo misto Aurelio Pace, segnalando che il fenomeno si ripete da tempo e con sempre maggiore pericolosità, visto che in alcuni di essi vi sono state anche delle minacce o violenze a danno dei poveri ignari residenti sorpresi in casa dagli stessi ladri. Con una interrogazione Pace ha chiesto al presidente della regione Pittella di mettere in atto le opportune azioni idonee a fronteggiare questa escalation di furti nell'area della Val d'Agri. Si tratta di una situazione non più sostenibile, aggiunge il consigliere del gruppo misto, non solo per il numero crescente di furti ma anche per la pericolosità degli stessi. In particolare, conclude Pace, occorre dare risposte in termini di sicurezza nei centri di Moliterno, Montemurro, Sarconi, Sant'Arcangelo, Viggiano, dove la popolazione vive una giustificata psicosi da furti, visto i troppi casi ripetutisi negli ultimi tempi.